Buona visione da Strada del Vino e dei Sapori del Trentino Ciao a tutti, mi chiamo Stefano Delugan e mi trovo qui a Meano all'interno di una perla del territorio si chiama Orto in Villa qui vengono raccontate le tecniche culturali, sostanzialmente dove si unisce socialità a coltivazione si sviluppano tutte le tecniche e le tipologie di orti, abbiamo quello sinergico, quello convenzionale, quello biologico, quello biodinamico, quello secondo natura, quello permaculturale tutte queste tecniche le raccontiamo in questa installazione come vi dicevo si chiama Orto in Villa, è gestito da una proloco, la proloco Cacomuna del Melanese e anche questo si trova nel compendio di Sanato Salvadori all'interno del territorio dell'Ecomuseo dell'Argentale a presto Arrivederci da Strada del Vino e dei Sapori del Trentino a presto Arrivederci da Strada 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 del Trentino Arrivederci da Strada del Trentino a presto a presto